Buonasera, oggi al libro del giovedì presentiamo il libro di Jacopo Perazzoli, per la pace del diritto, Woodrow Wilson e la sua eredità, dalla grande guerra allo shock della globalizzazione. A parlare di questo libro abbiamo chiamato Giovanni Bernardini e Patrizia Dogliani. E' un libro, questo libro di Perazzoli, che ricostruisce essenzialmente su base di una aggiornatissima bibliografia, percorso e la storia del Wilsonismo e del modello di organizzazione globale che dopo la grande guerra Wilson propose, che conobbe con la creazione della società delle nazioni, che conobbe come noi sappiamo una profonda sconfitta e appunto Perazzoli ricostruisce i caratteri della proposta di Wilson, la sua capacità di grande presa nell'immediato dopoguerra nell'Europa sconvolta dagli esiti della guerra mondiale, il suo rapido declino nel periodo tra le due guerre e la ripresa è sulla base anche delle profonde trasformazioni che hanno avvenuto tra le due guerre al termine della seconda guerra mondiale per l'iniziativa essenzialmente di Franklin Delano Russo e della proposta appunto contenuta nella carta atlantica. Perazzoli segue anche, come dire, l'evoluzione del Wilsonismo nell'America, negli Stati Uniti, potenza globale del secondo dopoguerra, ne esamina anche, come dire, le diverse percezioni da parte della storiografia, sia appunto di quella realista, di quella della nuova sinistra e di una ripresa, ecco, della proposta democratica di Wilson, il libro che è preceduto da una prefazione di Mario Delpero, mette anche in evidenza i problemi legati al profilo di Wilson, un uomo che proveniva dal sud degli Stati Uniti, quindi in una temperie nella quale la dimensione del razzismo era la dimensione certamente caratterizzante con l'identità anche dei democratici americani e questo quindi un tema che è tornato prepotentemente di attualità, soprattutto nel momento in cui a Princeton si è deciso di eliminare in qualche modo il nome di Wilson che è un libro 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 che pone molti problemi, che ci riporta anche, come dire, anche al dibattito attuale di un mondo nuovamente senza ordine che cerca disperatamente in questa assenza di ordine nuovi paradigmi tra i quali organizzare la coabitazione collettiva. Bene, io darei la parola a Giovanni Bernardini per avviare il dialogo e il confronto. Grazie. Grazie, grazie a Paolo Sotto per avermi dato la parola, grazie alla Fondazione per l'invito e grazie a Jacopo per avermi agevolato, diciamo, questo invito. Mi fa davvero piacere essere qui a parlare di questo volume, non solo perché conosco Jacopo da tanti anni, ma perché il tema mi è abbastanza caro essendomi occupato di storia della Conferenza di Pace di Parigi, il momento di picco del Wilsonismo e poi di rapido declino e di rapido rovinoso crollo. Io vorrei iniziare con alcune considerazioni e una piccolissima critica, o meglio, suggerimento a Jacopo, visto che se no si finisce per fare solo un elogio del volume, che di meriti ne ha tanti, infatti inizio da quelli. Intanto iniziamo dalla fine e le ultime cinque righe nel libro di Jacopo, tanto non è uno spoiler, ci sono assassini da rivelare, lui dice che alla fine il Wilsonismo è figlio del suo tempo e del suo estensore e non è una strategia politica buona per tutte le stagioni, quelle cose che piacciono agli esperti di teoria delle relazioni internazionali, non funziona così. Ora, perché è meritorio all'opera di Jacopo che si è infilato in un ginebraio non da poco, perché su Wilson è stato scritto tutto il contrario di tutto, e si è detto di tutto il contrario di tutto, è difficile trovare un personaggio più esaltato e vituperato insieme, e forse Napoleone o pochi altri mi vengono in mente, che si è passato dai massimi elogi alla massima e accuse di aver combinato le peggiori nefandezze. Perché è importante il libro di Jacopo e secondo me è interessante per un lettore, anche non del settore, non uno specialista? Perché fa due cose. Primo, come rivelano quelle cinque righe, lui dice andiamo a vedere chi era Wilson e cos'era il Wilsonismo nel suo contesto, e ci perde il giusto tempo per farlo, ovvero collochiamo la storia di Wilson e del suo pensiero, della sua elaborazione, all'interno del contesto storico, geografico, insisto su questo termine e poi spiego perché, e politico in cui mi ha trovato. Secondo, nella seconda parte del volume, lui si chiede, in un certo senso è un po' la domanda infiligranea di tutto il libro, perché il Wilsonismo abbia avuto un'influenza così di lungo periodo al punto che addirittura ancora nel 2022 un brillante storico italiano sente il bisogno di scrivere una sorta di nuova biografia, non biografia di Wilson, ma biografia del Wilsonismo, direi quasi. Beh, intanto, se io dovessi consigliare un capitolo a un lettore che ha fretta e poco tempo di leggere tutto il libro, gli consiglierai proprio il primo. Perché molto spesso Wilson sembra spuntare fuori a nascere la conferenza di pace, e non è così, questo è ovvio. Jacopo lo spiega bene, in maniera sintetica, ma dettagliata. Wilson, lui lo spoglia del mito, sostanzialmente, il mito che si costruisce alla conferenza di pace, è famosa l'espressione di David Ray George, il primo ministro britannico, che sedendo in mezzo tra Clemenceau e Wilson, diceva, io sono seduto tra Gesù Cristo e Napoleone, sostanzialmente, in cui Gesù Cristo era Wilson, quindi non delle aspettative basse, in questo senso. Beh, innanzitutto, Wilson era il presidente degli Stati Uniti e prima ancora era cittadino degli Stati Uniti, quando, in un periodo particolare della storia degli Stati Uniti, a cavallo tra l'ultimo quarto del XIX secolo e l'inizio del XX, cioè il momento in cui gli Stati Uniti, io dico sempre questa espressione ai miei studenti, iniziano a somigliare di più agli Stati Uniti che noi conosciamo. Gli Stati Uniti protagonisti della seconda rivoluzione industriale, degli Stati Uniti che si sviluppano, che crescono, che nascono, le città che sono dei piccolissimi villaggi come era Chicago, diventa, comincia a diventare la Chicago che conosciamo, questi sono gli Stati Uniti del periodo wilsoniano. In questo contesto chi era Wilson? Wilson era fondamentalmente un accademico, che per i nostri standard non è una notizia, per quelli americani sì. Negli Stati Uniti i presidenti che venissero dall'accademia, non ce ne sono molti. Wilson è l'ultimo presidente degli Stati Uniti ad aver avuto un dottorato di ricerca. Non ci sono più stati da un secolo. Quindi viene da quel contesto. È innanzitutto un uomo di studi, il quale si dedica principalmente ed essenzialmente ad un'ossessione, Jacopo lo spiega. Questa ossessione è capire la democrazia. Cioè il regime che secondo lui caratterizza gli Stati Uniti in maniera, dalla nascita, come dire, è una questione congenita per gli Stati Uniti, mentre per altri paesi ci sono arrivate. Lui studia la democrazia, ne fa un tema di studio almeno dal 1885, quindi ripeto, pienamente in quel periodo, intorno a lui ci sono gli Stati Uniti che si sviluppano, che diventano potenza economica mondiale. E giunge alla conclusione di tanto studio che la democrazia è la miglior forma di governo, che per avere una democrazia ci vuole, questo Jacopo lo dice, una classe media forte, e se vogliamo, qui anticipo una cosa che volevo dire dopo, questo è uno dei lasciati più importanti di Wilson e de Wilsonismo. Questo motivo tornerà nella storia. Penso agli anni di Kennedy, in cui le strategie kennediane volevano promuovere non solo la democrazia, ma il rafforzamento della classe media in America Latina, ma non solo, perché quella era la vera garanzia di difesa della democrazia. Oggi pare che questo messaggio sia in parte dimenticato, visto lo stato della classe media in molti paesi democratici. In più, nasce e matura all'interno di Wilson quello che spesso prendiamo come uno slogan, ma non lo era, ovvero l'idea che gli Stati Uniti siano eccezionali, costituiscano un eccezionalismo per questa affermazione della democrazia sin da principio, e che quindi gli Stati Uniti debbano farsi guida, in qualche modo fumoso, nel primo pensiero di Wilson, della promozione della democrazia fuori. Tuttavia, Jacopo insiste anche su un punto che a volte si dimentica. Lui, l'ho scritta questa frase, lui dice che il presidente Wilson aveva degli obblighi nel mondo coloniale, e non è che se ne disfa, se ne fa carico. Cioè, gli Stati Uniti, in quel periodo, hanno assunto il controllo di territori fuori dai loro confini, e lo mantengono. E non è che Wilson, presidente democratico, che poi sarà per l'autodeterminazione, eccetera, dà immediatamente la libertà a questi paesi. Anzi, per certi versi, Jacopo fa capire che per Wilson dovevano essere un territorio di sperimentazione. Gli Stati Uniti aiutano, agevolano questi paesi, queste aree del mondo, a diventare democratiche. e non sono poche, Filippine, Puerto Rico, Guam, il canale di Panama, in particolare, dopo la guerra con la Spagna del 1898. Quindi, facendo un piccolo salto, molto spesso, viene presentata questa idea alla conferenza di pace in cui Wilson non voleva più creare nuove colonie. Gli europei volevano nuove colonie. La via di mezzo è che si trovano dei mandati dati alla società delle nazioni, di cui si fanno carico le grandi potenze. Sarà pure una mediazione, ma non è una mediazione che è fuori dalle idee di Wilson. Wilson ha una chiara opinione, una chiara idea per cui i bianchi, possibilmente anglosassoni, sono i più progrediti al mondo e il resto del mondo va accompagnato alla democrazia, all'autogoverno perché non lo è in grado, secondo una scala razziale, poi è l'elemento più discusso dell'eredità wilsoniana. In questo senso Wilson accetta questo incarico e lo accetta ancora ben prima di pensare di diventare Presidente degli Stati Uniti. Quando diventerà Presidente se ne fa la carico, tant'è vero che quella battuta Wilson è segnato da alcune battute, una la riporta anche Jacopo, quella in cui lui dice a un suo amico quando diventa Presidente sarebbe un assurdo se io diventassi un Presidente molto attivo in politica estera perché io in realtà mi sono esperto di lui che interno. Non significa che lui fosse di Giune e non significa che non avesse riflettuto in termini molto concreti sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo. lui era un Presidente per certi versi imperiale di questo strano impero che erano gli Stati Uniti il titolo del famoso libro del libro di Mario del Pero l'impero dell'impero di libertà cioè questo paradosso che gli Stati Uniti sono ma tuttavia questo esiste. Dopodiché Jacopo non ha problemi ad affrontare i nodi più scottanti cioè il Wilson razzista il Wilson che introduce la segregazione negli uffici della Casa Bianca cosa che prima di lui nessuno l'ha fatto Wilson era un figlio del sud degli Stati Uniti era sostanzialmente fedele a quella sensibilità a quell'idea dico sensibilità perché c'è un episodio che si verificherà durante la conferenza di Parigi prima della conferenza di Parigi Wilson visiterà varie capitali europee questo è noto colto da Ali di Foll quando andrà a Londra chiederà alla moglie la giovane moglie di non seguirlo per una ragione che viene riportata dai biografi Wilson disse potrebbe essere scioccata da come in Gran Bretagna vengono trattati i neri cioè la sensibilità di Wilson è quella oggettivamente era una colpa non era una colpa Wilson era un uomo del suo tempo di quella temperie di quel luogo il sud degli Stati Uniti aveva assorbito quell'idea la proietta anche a livello internazionale io non so se sto parlando molto tornerò su altri tornerò su altri punti più tardi ma sostanzialmente è in questo contesto che Wilson comincia a elaborare le sue idee che non nascono alla conferenza di pace tutt'altro quando Wilson comincia a riflettere sulla città delle nazioni lo fa Lega delle Nazioni che lui chiamava sull'idea come ha detto Paolo Sod prima sull'idea di dare un ordine internazionale a questo disordine perpetuo beh qualche esperienza c'era stata c'era stata la corte internazionale creata in 1898 c'era una lunga tradizione giuridica non solo statunitense che rifletteva su questi temi Wilson non è che se lo inventa da un momento all'altro ci mette del suo siamo d'accordo ma riprende quella tradizione e la fa propria poi quando si scopre nel libro di Jacopo a volte qualcuno se lo potrebbe dimenticare che questo slogan della pace senza vinti e vincitori che se mi permettete la piccola autocitazione io nel mio libro ho detto che quella fu la vera arma dispiegata dall'intesa durante l'ultimo anno di guerra perché fece crollare i fronti interni soprattutto in Germania che dire alla gente finiamo la guerra senza vinti e vincitori beh se stai perdendo non è una cattiva prospettiva tutto sommato ma la prima volta che lui ne parla è nel 1914 quando è ancora ben lontano dall'entrata quindi evidentemente erano idee immagurate in quel torno di tempo tra l'essere accademico e il diventare presidente degli Stati Uniti come anche un'altra cosa che mi ha sorpreso perché questa non la sapevo fino a che non ho letto quel capitolo di Jacopo in effetti lui riflette sull'impero tedesco come modello negativo già da ben prima della guerra in questo senso rappresenta una sorta di opposizione non solo agli Stati Uniti ma a tutto ciò che gli Stati Uniti volevano un impero che tendeva alla chiusura che tendeva a farsi fortezza sia se stesso sia le aree in cui riusciva a mettere il controllo ovviamente anche un impero in cui il concetto di democrazia era estremamente limitato sappiamo il governo non è responsabile del fronte al Parlamento tutte cose impensabili per Wilson sostanzialmente e quindi in questo senso è interessante il primo capitolo in particolare del libro di Jacopo proprio perché ci porta a capire a conoscere la figura di Wilson e qui mi interrompo con una quella che dicevo prima sarà anche curioso Jacopo una piccola critica fai talmente tanta attenzione a evitare gli anacronismi che c'era uno piccolino che ti è sfuggito e che a me quando l'ho letto mi ha fatto un po' saltare sulla sedia cioè tu dici in fondo Wilson porta in guerra agli Stati Uniti ed applica delle limitazioni all'opinione pubblica interna che sembrano confliggere con la sua idea stessa di democrazia in fondo gli Stati Uniti come tutti gli altri paesi la prima cosa che fanno è silenziare le fonti di dissenso quando si entra in guerra e promuovere la propaganda del consenso e in questo senso forse però l'idea di democrazia che era di Wilson non dobbiamo assimilarla troppo alla nostra nel senso gli Stati Uniti di quegli anni guerra o non guerra sono degli Stati Uniti in cui c'è un tasso di violenza fortissimo e in cui ci sono tantissimi episodi difficilmente riconducibili alla nostra idea di democrazia 1914 il massacro di Ludlow 19 operai massacrati dalle forze private della miniera la guardia nazionale rimane ben a distanza in tutto quel periodo gli Stati Uniti si fondano anche su questo su una limitazione potrei fare anche tanti altri esempi non li faccio anche perché non sono storico degli Stati Uniti e me ne dimenticherei alcuni molto grandi ma questo erano gli Stati Uniti dell'epoca questo perché lo dico perché questo in un certo senso ci dovrebbe portare anche a scollare la nostra interpretazione di ciò che era democrazia all'epoca e il fatto che la guerra venga presentata come democrazia contro autoritarismo ovvero quanto erano realmente democratici i paesi democratici dell'epoca per i nostri standard se vogliamo ragionare in questi termini quindi in questo senso ho notato questa piccola defiance ma per il resto secondo me rimane un capitolo che come fosse un saggio a sé stante può spiegare tranquillamente l'evoluzione del pensiero di Wilson e preparare quello che poi Giacomo spiega dopo e su cui magari tornerò dopo ovvero la nascita del Wilsonismo che va oltre Wilson stesso grazie grazie Giovanni Berardini per questa introduzione al pensiero di Wilson e allo sviluppo della politica di Wilson do la parola a Patrizia Dogliani che peraltro è stata anche dorsista della fondazione Enaudi prego grazie un bel ricordo quello della fondazione Enaudi di anni passati tra l'altro da cui nacque il mio primo libro proprio sull'internazionale giovanile socialista quindi siamo proprio nell'epoca data cioè la crisi poi non soltanto l'apice del socialismo ma anche la crisi del socialismo con la grande guerra io tanto vi ringrazio molto per avermi invitata con recentemente con Jacopo abbiamo avuto occasione anche un convegno in Spagna di discutere di Wilsonismo tra l'altro questa l'aspetto del Wilsonismo l'attualità del Wilsonismo sta guadagnando altri paesi che fino a quel momento erano in qualche maniera non contaminati potremmo dire come la Spagna che come nella ricostruzione della loro neutralità hanno ripreso una riflessione sulla crisi delle democrazie non durante il conflitto ma a causa di un conflitto europeo e diciamo l'eco del Wilsonismo è un libro allora intanto mi è capitato posso dire negli ultimi anni di immergermi in dibattiti sulla figura di Wilson e del Wilsonismo partendo dalla mia prospettiva che è quella dell'internazionalismo e del transnazionalismo che è un tema che è stato ripreso con un certo successo con una certa attenzione sia da un gruppo di lavoro che poi scaturito in questo libro curato da Glenda Sluga e Patricia Clevin Internationalism che è uscito qua qualche anno fa sia per un seminario e poi un libro che era uscito a mia cura dal mulino internazionalismo transnazionalismo all'indomani della grande guerra nel quale tra l'altro c'è proprio una parte dell'intervento di Daniela Rossini americanista storica del wilsonismo in Italia che riprende il tema dell'internazionalismo wilsoniano e lo proietta fino al ventunesimo secco quindi la domanda e tra l'altro il contributo in questo contesto che è venuto poco dopo il libro uscito poco dopo questa produzione di Jacopo è un contributo a sé stante ricco e a mio parere che è un vero e proprio contributo non è soltanto il seguito di un dibattito ma sollecita e amplia questo dibattito proiettandolo non soltanto sul piano internazionale ma una riflessione molto italiana sul wilsonismo che a mio parere parte l'americanista appunto Rossini mancava o era limitato fino a poco a poco tempo intanto quindi io sono perfettamente d'accordo con Giovanni Bernardini quando la tensione che l'autore ha sulla figura di Wilson e quindi non si può studiare il wilsonismo senza studiare la figura di Wilson però è anche vero che si può riprendere a studiare il wilsonismo laddove o riflettere sul wilsonismo laddove questo wilsonismo viene attualizzato nel ventunesimo secolo o viene in qualche maniera riproposto in maniera storica nel ventunesimo secolo quindi quindi lo sforzo credo degli storici sia quello proprio del nostro mestiere cioè di collocare è stato appena detto Wilson nel suo tempo e poi vedere eventualmente passare rimanendo fermi sul nostro mestiere passare ai politologi gli aspetti più relativi a quanto di quel wilsonismo oggi si può ripetere riferire all'attualità ad esempio a pagina 72 l'avevo segnato anche io ogni tanto mi segno delle frasi come Giovanni ha fatto Jacopo ricorda che dice ricorda la realtà e la decisione americana di entrare in guerra come cito portare il paese in guerra per condizionare la pace questo è un elemento a mio parere molto interessante dell'analisi che lo stesso Jacopo fa cioè nell'analizzare la figura di Wilson la sua cultura protestante e il suo pathos potremmo dire il suo moralismo la sua cultura politica mi pare che l'elemento che forse oggi potremmo ripensare per quanto riguarda gli Stati Uniti o come gli Stati Uniti vogliono vedere il wilsonismo è quello di entrare in guerra per condizionare la pace e sottoporla a quella che Wilson diceva una pace giusta all'epoca Wilson entra come un terzo incomodo tra due blocchi cosa che oggi gli Stati Uniti fanno parte di un blocco o facevano parte di un blocco e questo è un elemento di interesse che senza appiattirlo all'attualità può far capire come oggi si può leggere il wilsonismo o vuole essere letto il wilsonismo da più parte l'altro aspetto interessante che veniva messo in luce dal libro è quello del patriottismo al patriottismo americano naturalmente che è uno degli elementi insieme al populismo che oggi ritroviamo nell'arena politica nella situazione politica per il ripeto io poi sono una specialista di storia europea però insomma come tutti noi osserviamo con grande interesse quello che sta accadendo negli Stati Uniti e mi pare che uno degli spunti interessanti del libro è quello di vedere come viene Wilson presentato in termini di universalismo wilsoniano ma in realtà come viene poi ridotto letto e poi anche un elemento di sconfitta da parte di Wilson rispetto al patriottismo cioè entrare in guerra per condizionare la pace e Wilson poi fare attraverso la propaganda Giovanni lo ricordava delle entrate in guerra il sostegno della guerra negli Stati Uniti trasformare questo obiettivo in realtà in un forte elemento di patriottismo che giocherà a suo favore proprio nel momento in cui i repubblicani e i repubblicani sconfiggeranno Wilson nel momento al congresso nel momento dell'approvazione e quindi del rifiuto dell'entrata nella società dell'inversione questo è un elemento che può essere letto come grande riflessione storica ma che ci porta anche a degli aspetti anche di attualità è vero che il mito wilsoniano che è stato più volte sottolineato nel libro mi pare una parte molto interessante del libro è percepito da molte parti diciamo e viene ricordato tra l'altro citando alcuni storici come Larry Wolf e altri come il wilsonismo è subito attrae e trova adesione nei paesi in via di formazione in termini anti imperialisti nell'Europa centro centropalcanica forse occorrerebbe riflettere un po' di più anche sul il mediterranismo del wilsoniano cioè oggi che stiamo riprendendo alcuni studi come quelli salveminiani di salvemini eccetera quanto il wilsonismo abbia in qualche maniera attratto enormemente i paesi meridionali non soltanto quelli dell'Europa centro orientale quello che forse mi ha interessato di più per il tipo di miei studi è la parte che è dedicata al socialismo e quella che è dedicata al wilson in rapporto alle sinistre europee qui mi pare ben tracciato alcuni punti che in sostanza ricordano che cosa c'è non solo una crisi generale geopolitica in Europa ma c'è una profonda crisi delle sinistre in Europa dovuta alla guerra ripetere e riprendere alcuni passi secondo me molto interessanti di come l'internazionale socialista dopo la crisi della guerra dopo il non parlarsi tra i grandi partiti come l'SPO il partito socialista francese la SPD ritrova in qualche maniera con grande fatica dei passi di ricostituzione di un internazionalismo ma internazionalismo che in quel caso ancora era dei vincitori e non dei vinti il congresso di Berna il primo incontro che i socialisti dei paesi vincitori fanno dopo nel febbraio quasi in contemporanea ai lavori di Versailles e l'incapacità poi di giungere sappiamo che un internazionale socialista nascerà di fatto si completerà soltanto nel 1923 quindi anni dopo il Wilsonismo in qualche maniera o Wilson si incunea in questa crisi profonda delle sinistre e a mio parere se volete indirettamente contribuisce anche alla nascita dei partiti comunisti in quegli anni dal 19 al 20 noi ne avevamo discorso con Jacopo proprio in convegno a Girona qualche mese fa quando si contestava io ero perfettamente d'accordo lui lo richiamava contestava diciamo l'analisi che Mazzauer ha fatto in un libro su su Lenin a differenza Lenin Wilson diciamo Lenin come il Marx del novecento e Wilson come il Mazzini del novecento dicendo che sono due strade diametralmente cioè parallele che si che si costruiscono in quel periodo e lo vedevamo mi pare che Jacopo fosse d'accordo come invece Lenin e Wilson in quegli anni Lenin e Wilson e in mezzo e quindi un Wilson che in qualche maniera si sostituisce non a un Mazzini ma si sostituisce più complessivamente ad una crisi delle sinistre che in quel momento non riesce a trovare una via di sbocco perché ancora è coinvolta non tanto non soltanto dalle rivoluzioni e contro rivoluzioni che si stanno svolgendo ma anche di fatto dallo scontro dal grande conflitto che è un conflitto politico ideologico non soltanto militare tra i due paesi che erano le due case principali del socialismo europeo fino al 1914 quindi io credo che questo sia un elemento interessante del libro e che suggerisca un'ulteriore riflessione sulla storia dell'internazionale socialista ci sono stati proprio negli ultimi anni alcuni lavori anche qui sono in questo momento in Francia anche qui in Francia da Elisa Marcobelli altri che hanno lavorato su questo tema dell'internazionalismo durante la guerra e nello stesso tempo però ci riporta e qui c'è una parte interessante del libro sulla specificità del socialismo italiano sulla specificità del socialismo italiano rispetto agli altri paesi perché da una parte abbiamo l'Italia come le cinque potenze 4 europee più vincitrice più il Giappone che hanno un peso nella Versailles ma dall'altra l'ambiguità se vogliamo ancora più forte in questo contesto internazionale del partito socialista italiano che ha una sua specificità cioè a differenza degli altri grandi partiti dell'internazionale si trova nell'adorire non aderire non sabotare una situazione molto diversa rispetto all'entrata in guerra e alla nazione armata diciamo degli altri socialisti e quindi in qualche maniera Wilson proprio in questa situazione mi pare ma Jacopo ci può forse confermare quello che lui voleva in qualche maniera scrivere che ha scritto nel suo libro che il Wilsonismo abbia in Italia un forse anche un maggiore peso pregnanza o appealing potremmo dire attenzione da parte del socialismo e in particolare del socialismo riformista al momento dell'arrivo di Wilson ci descrive molto bene le parti le pagine che ripeti almeno in due capitoli del viaggio di Wilson in Europa sono molto molto interessanti anch'io li avevo un po' seguiti sulla stampa soprattutto francese l'arrivo Wilson che parte dagli Stati Uniti arriva in Francia poi va in Inghilterra poi torna in Francia e poi va in Italia e la parte italiana forse era quella meno conosciuta fino a questo lavoro cioè di come trova folle e movimenti potremmo dire perché le folle e movimenti anche gli operai un movimento operaio particolarmente entusiasta dell'arrivo di Wilson ma come proprio per questo le autorità il governo le autorità italiane organizzano un viaggio che non faccia fare a Wilson un baglio di folla potremmo dire anzi lo tenga assolutamente fuori dalla da questo tipo di di rapporto e questo è estremamente interessante anche perché sembra quasi che ci siano più Wilsonisti che Wilson in Italia adesso non voglio forzare nel senso che un viaggio lampo nel quale vede un po' e vede va in Vaticano è stato riportato anche alle difficoltà tra il protestantesimo Wilsoniano e o americano se vogliamo in senso generale e cattolici ma quello che sembra essere così presente è che in questo viaggio lampo di Wilson Wilson trova però dei portavoci ancora più wilsoniani di lui Bissolati ad esempio e altri interventisti democratici che si appassionano fortemente addirittura è interessante vedere è stato sottolineato anche il ruolo del Corriere della Sera in quel viaggio o anche altri ambienti come Don Sturzo che in questa situazione si pone e la cosa che mi ha non dico stupito ma su cui non avevo riflettuto un primo innamoramento dei nazionalisti prima di diventare tra i primi grandi oppositori del Wilsonismo nel momento che i lavori di Versailles vanno avanti ecco e sembra che Wilson in Italia metta veramente tutti d'accordo molto più che in altri paesi e questo è una impercezione che ho che mi sono fatta nella lettura della lettura del libro l'altra cosa naturalmente come ho detto Lenin e Wilson insieme certamente io credo pensando all'internazionalismo socialista senza Wilson secondo me alcuni personaggi che avrebbero poi rivestito un ruolo sia nell'ambito della sinistra francese penso appunto a Renaudel scusate del riformismo francese sia personaggi che hanno poi rivestito un grande ruolo su cui oggi si continua a studiare come Alberto Ma primo segretario dell'ufficio internazionale del lavoro senza Wilson forse il loro ruolo non dico senza un rinnovato ufficio internazionale del lavoro però avrebbero avuto probabilmente un ruolo molto diverso all'interno delle sinistre europee quindi fare a ritroso una decostruzione oltre che una ricostruzione del viaggio e della presenza di Wilson in Europa secondo me è un oggi ancora oggi un elemento di grande interesse per capire meglio quel periodo così complesso come quello dell'immediato primo dopo guerra e qui mi fermo per il momento grazie a Patrizia Dogliani questo denso intervento intorno alla nascita di internazionale dell'innocento quello liberale di quello comunista insomma come con l'internazionalismo e il socialismo diviso insomma ecco fra tra dei due esperienze in formazione la parola appunto adesso a Jacopo Perazzoli che è affinista di ricerca all'università di Bergamo ed è stato anche egli non ricordo male borsista della fondazione Enaudi prego Jacopo sì allora mi sentite sì grazie grazie Paolo sì anche io qualche annetto fa ormai insomma fa un po' specie intanto vi ringrazio perché insomma diciamo che ho visto come forse sono riuscito a far capire quello che volevo far capire insomma quella che era un pochino la mia idea di fondo che è stata come diceva Giovanni nel suo intervento parto prima parto prima dalle considerazioni di Giovanni giusto in ordine cronologico proprio l'idea di smitizzare Wilson perché alla fine nel senso come poi talvolta succede queste figure grandi figure del passato vengano smitizzate oppure totalmente buttate nel cestino in realtà secondo me il nostro mestiere è proprio vedere i chiaroscuri e quindi cioè dire Wilson chi è stato chi non è stato le cose buone ma anche le cose negative che ha fatto talvolta si legge nella storiografia un approccio Wilsonologo no cioè quindi Wilson era sostanzialmente una figura tutta positiva tutta in luce e in realtà insomma poi come ci hanno spiegato anche molto bene alcuni lavori che io ho ripreso insomma quello di Arez Manela sul monumento Wilsoniano ci fa capire molto bene che poi alla fine proprio questo approccio se vogliamo un po' talvolta finto idealista mettiamolo così abbia alimentato poi speranze che si sono tramutate soprattutto nel contesto coloniale quindi cioè è una figura complessa che secondo me va studiata per quello che è stato e quindi per una figura della seconda metà dell'ottocento americana come dicevi appunto tu Giovanni che si forma in quella stagione che è un accademico di quella stagione che ragiona tantissimo c'è ancora prima di finire il dottorato di fatto è dentro questa tutta questa quella riflessione che poi secondo me è interessante notare come sia transatlantica cioè rimbalzi tra le due sponde dell'Atlantico quindi perché è vero che gli spunti per esempio sulla società delle nazioni si diventano notori a livello globale perché li porta avanti quello che era il presidente della potenza industriale in ascesa però in realtà si gioca di sponda tra Gran Bretagna anche in alcuni ambienti francesi soprattutto passano poi tramite il partito socialista americano alcuni spunti quindi c'è c'è tutto un magma che poi a cui guardano gli intellettuali se volete progressisti e Wilson era sicuramente da questo punto di vista un intellettuale progressista però come dicevi tu Giovanni sicuramente uno che pensa a un imperialismo progressista non è che dice gli Stati Uniti devono smettere di essere impero assolutamente no e secondo me il suo obiettivo talvolta si parla di autodeterminazione dei popoli ma se andiamo a vedere i 14 punti si parla al massimo se ci si riferisce all'autogoverno che è cosa ben diversa rispetto all'autodeterminazione dei popoli su cui poi salimentano le speranze e le illusioni come scrive molto bene anche Giovanni nel suo libro sulla conferenza di pace di Parigi cioè che poi alla fine a Parigi diventa sì capitale del mondo in quei mesi ma diventa capitale anche degli scottenti dei popoli coloniali scontenti perché insomma tutti sperano che Wilson possa fare una cosa che secondo me non ha mai in testa che è quella di liberare i popoli coloniali ma il cui lui non guarda ma assolutamente no il suo punto è arrivare all'ordine all'ordine internazionale come dicevi anche tu Paolo all'inizio cioè il tema del porre rimedio al disordine globale da cui poi la guerra scoppia quindi come dice poi forse uno degli storici americani più importanti che si è occupato di Wilson cioè Frank Ninkovic che parla appunto di un internazionalismo della crisi e quello wilsoniano è un internazionalismo della crisi cioè un disegno globale che deve porre fine porre rimedio alla più grande rottura drammatica che il novecento ha vissuto cioè la prima guerra mondiale quindi è questo l'obiettivo molto pragmatico cioè non certo poi c'è una ventata anche se vogliamo una una propaganda che americana che ha battuto moltissimo sul tasto idealista no? quindi sugli alti ideali wilsoniani anche facendo poi lo spiega molto bene tu Patrizia citavi appunto il lavoro di Rossini anche in alcuni articoli Rossini spiega molto bene proprio la propaganda che gli americani mettono in campo fin da quando entrano in guerra proprio divulgando il messaggio wilsoniano che quindi diventa messaggio ripeto di uno stato non soltanto più di un singolo e questa è la vera una delle forze del wilsonismo secondo me che poi diventa il messaggio della potenza in guerra che sta cambiando inevitabilmente i destini del conflitto e però è qui che arriva a conquistare molti consensi anche in occidente come dicevi prima Patrizia io nella copertina del mio libro è proprio una vignetta che ho ripreso dall'avanti di Scalarini e qui ci fa capire come dentro il mondo socialista riformista appunto wilson venisse visto come un ideale se non a cui rifarsi per le future battaglie politiche quanto l'ideale che avrebbe reso più giusto la persona che avrebbe reso più giusto il mondo da cui poi costruire l'ascesa del socialismo una sorta di premessa vincere quella battaglia è una premessa per poi arrivare al socialismo però questo è importantissimo per gli ambienti riformisti ma secondo me nel mondo italiano nel socialismo italiano anche per in certi momenti certi frangenti per lo meno prima che scoppi la rivoluzione d'ottobre è visto di buon occhio anche dai massimalisti perché appunto vedono che è una figura che in qualche modo va contro anche gli stessi obiettivi dell'intesa quindi c'è un po' questa la complessità sta anche qui nel fatto che è una figura che ciascuno dei protagonisti politici tira al proprio lato perché vale il discorso vale per l'Italia tanto è vero che prima Patrizia citava i nazionalisti che sono perché vedono in Wilson il capo di una potenza giovane mi pare che alcuni editoriali dell'idea nazionale puntino proprio sottolineo l'elemento della giovane America come la giovane Italia che deve affermarsi sulla scena globale ma come potenza perché poi l'obiettivo nazionale sarà quello e quindi c'è un po' questo meccanismo che io ho intravisto che è forse la cosa che mi ha affascinato di più come questo personaggio poi sia stato utilizzato da tutti i protagonisti che l'hanno o suoi coetanei o quelli che poi l'hanno seguito alla bisogna cioè per i riformisti veniva usato appunto in quell'ottica lì come colui che avrebbe costruito poi le basi le premesse democratiche per poi arrivare al socialismo nel mondo tedesco Giovanni lo sa molto bene è stato visto come appunto quello della pace giusta lei l'ha detto prima quindi stiamo perdendo il conflitto cosa c'è di meglio per la testa del principe di Baden ma anche di Friedrich Hebert primo presidente della repubblica c'è tutto questo noi ci aderiamo ci aschieriamo sui 14 punti così saldiamo l'integrità territoriale tedesca questo nell'Europa balcanica è centrale uguale perché insomma promuove poi lui stesso che supporta le indipendenze gli stati gli nasciti di quei paesi come stati sovrani quindi è chiaro che diventa comodo in un certo momento appoggiarsi a Wilson e da qui il mito Wilson il fatto che anche quando arrivi in Francia che poi forse con la Francia ci sia una visione differente soprattutto col governo francese per Clemenceau ma anche se poi questo mi sono appoggiato molto alle tesi di Giovanni cioè sul fatto che poi alla fine anche Clemenceau non è che andava male alla società delle nazioni purché si venisse rispettata le prerogative francesi alla pace punitiva e da qui il compromesso quindi questo è un altro punto che il cui ho cercato di battere che alla fine l'atteggiamento di Wilson l'idealismo dove sta è un compromesso continuo costante cioè non è che puoi provare a realizzare i tuoi disegni senza scendere a parti se no salta l'alleanza quindi è questo una regola della politica molto banale passo subito alla tua giustissimo stimolo che mi hai fatto quando parlavo appunto della repressione del dissenso interno è verissimo cioè non è che fa nulla di nuovo si muove su un'onda dove forse io l'ho assorvolato questo aspetto ed è una cosa sicura giusta che mi hai fatto notare mentre ne parlavi a me è venuto in mente uno scritto di Matteotti che è tutt'altro contesto dove parla di proprio nel 1915 mi pare lui anzi forse più avanti comunque nella prima fase del conflitto lui viene criticato perché continua a criticare gli altri paesi in termini di libertà di opinione pubblica che viene mancata e lui dice ma a me interessa sottolineare quello che succede in Italia perché anche in Italia stiamo vivendo un continuo costante silenzio messa sotto silenzio delle critiche al governo quindi questo è un altro elemento che poi se vogliamo accomuna noi le due risponde però è vero io forse su quel punto lì dovevo prestare un po' più attenzione però insomma è una cosa importante no perché poi quella è un'altra cosa che mi ha sorpreso molto ovvero che poi talvolta negli studi appunto Wilsonology si sorvola un po' questo aspetto il fatto che il dissenso era stato silenziato cioè il leader del partito socialista americano e lì alcuni esponenti principali del partito socialista americano finiscono in galera in questa stagione proprio perché appunto contraria l'intervento quindi c'è anche qui una mannaia cioè non è che appunto è una visione imperiale anche sul fronte interno non è che andasse troppo per il sottile e io volevo poi su alcune cose che diceva dicevi tu Patrizia sì soprattutto a me affascina molto il discorso o Wilson o Lenin e in realtà poi dopo si vede in certi contesti secondo me del primo dopoguerra dove perlomeno per un momento o dentro alcuni movimenti socialistici stanno un po' a fianco sia Wilson che Lenin perché poi alla fine nel comune sentire entrambi puntavano ribadisco il comune sentire alla pace giusta e appunto alla se vogliamo anche alla autodeterminazione che poi sappiamo doveva essere declinata come autogoverno quindi si va in un certo momento questo curioso vanno a braccetto in una fase infatti citavo se non ricordo male un lavoro di forse era Vivarelli quando spiega le origini del fascismo e cita Guglielmo Ferrero dove si dice che nelle trincee nei trincee italiane i soldati italiani parlano di Wilson e di Lenin come figure che in qualche modo possono rappresentare entrambi per ragioni diverse un progetto di futuro non più come il presente che era la guerra che era una guerra che non comprendevano e quindi certo anche Wilson viene inteso in quest'ottica però io credo che qui si viva un grosso misunderstanding cioè si sia visto quello che interessava ma perché anche ai riformisti serviva una sorta di riferimento internazionale indiretto che in qualche modo li abilitasse cosa meglio del presidente che si dice il presidente democratico degli Stati Uniti che dichiara pubblicamente il 4 aprile di entrare in guerra non assumendo gli obiettivi dell'intesa ma perché gli Stati Uniti non hanno fini territoriali se non estendere i loro valori democratici cioè è un messaggio fortissimo questo che poi certo comporta tutta una serie di problemi soprattutto sia nella sinistra europea perché è fortissima poi la disillusione cioè nello spazio di poche settimane lo sapete tutti molto meglio di me si passa dall'euforia wilsoniana a Wilson il male di tutto il mondo cioè basta leggere la critica sociale per citare un esempio cioè si passa trevese turati che ne parlano come se fosse appunto un nuovo riferimento socialista benché socialista non fosse Wilson e poi o non si cita più oppure viene addirittura presentato come il contromodello colui che non ha saputo evitare la pace punitiva con la Germania alla Germania quindi cioè è fortissima ma questo è un altro tema secondo me affascinante poi di questa stagione come si passa da un da una lettura all'altra nello spazio di pochi mesi ci dimostra quanto poi tutto fosse così fluido e appunto in via definizione certo poi si definisce come sappiamo soprattutto in Italia ma anche Mussolini inizialmente si dichiara wilsoniano quindi alcuni articoli sul sul popolo d'Italia di quando Wilson viene in Italia parla appunto di tutti i wilsoniani poi per quanto riguarda il viaggio in Italia e su questo chiudo io ho la sensazione che spero di non aver esagerato troppo nella ricostruzione secondo me Wilson ovviamente vedendo le chiusure che il governo a cui il governo costringe le manifestazioni cioè il fatto che non entri in contratto con la folla ci siano continui cordoni di ordine pubblico io ho la sensazione che lì sia stato compiuto un errore di valutazione da parte diciamo di Wilson e il suo staff cioè credendo che tutto il popolo italiano la maggior parte di esso fosse wilsoniano in realtà ed è lì forse che matura poi dopo il problema dell'appello all'italiano del 23 aprile credendo che ci fosse una popolarità molto più forte rispetto a quello che magari era non che non fosse popolare perché in Italia venne accolto basta basti pensare che a Torino l'ultima tappa ci arriva di sera e viene accolto da folle inaudite alla stazione quindi così ovunque però forse c'è anche una errata valutazione del quadro italiano e anche forse una difficoltà nel rapportarsi tra questo appunto accademico americano e i politici italiani che invece erano tutto forche accademici soprattutto alcuni penso hai anche la differenza proprio di profilo tra un Wilson e un Sidney sonnino cioè parliamo di figure agli antipodi quindi anche qui la difficoltà di relazione poi è molto più sulla dimensione umana secondo me rispetto che poi ovviamente alle visioni differenti del mondo e il governo italiano aveva una visione agli antipodi rispetto a quell'americana però secondo me anche il fatto che lui abbia incontrato come politico Bissolati che si era già dimesso peraltro era già stato fatto fuori meglio dirla così dal governo Orlando e insomma quello ci fa capire quanto poi alla fine il reale riferimento politico di Wilson nel nostro paese fosse Bissolati e poi però Bissolati va incontro al gazzino che sappiamo cioè esce di scena nello spazio di poche settimane perché poi l'episodio che cito di Milano quando non riesce neanche a parlare perché Mussolini glielo impedisce di fatto è quella la fine dell'interventismo democratico italiano ma sono sei giorni dopo rispetto al al viaggio di Wilson in Italia quindi veramente in quello spicchio tra novembre diciamo così forse tutto il 18 e l'inizio del 19 si giocano i destini anche del del successo dell'internazionismo democratico in Italia altra cosa poi sarà in America perché appunto quel discorso che facevi Patrizio su questo veramente vitaccio dell'universalismo che diventa patriottismo beh lì c'è l'ascito della guerra poi è una delle conseguenze ma lo dice meglio anche del per me sicuramente meglio di me è proprio il fatto che il senato voti contro proprio perché è un sentimento patriottico non possiamo accettare che un'organizzazione sovranazionale ci dica quando e come intervenire militarmente e questo è tutto e quindi la sconfitta mi taccio Paolo grazie grazie non solo perché il patriottismo poi si fa nazionalismo questo è il fatto fondamentale poi la cifra del periodo tra le due guerre insomma bene io farei un altro giro e la parola a Giovanni Bernardini che ho dimenticato di dire all'università di Berluna prego Giovanni sentite? sì spero si sente? ok perfetto ma sarebbe tantissimo da dire qui abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora che poi già il libro lo scoperchia ovviamente prendendo dentro tutto il secolo wilsoniano o non wilsoniano o wilsoniano per incomprensione per malinteso ma intanto una cosa che c'è nel libro e non è scontato cioè Jacopo a un certo punto sulla base di ciò che ha letto prende una posizione su un punto secondo me importante che è stato menzionato nel dibattito adesso ma non direttamente il riferimento alla coppia wilson e lenin non è così scontato vedere una sorta di influenza reciproca o quantomeno l'influenza di lenin e dei bolshevichi su wilson alcuni autori in parte lo negano cioè uno dei biografi io lo ho avuto la fortuna di conoscerlo anche di persona uno dei biografi di wilson più recenti che è Jacopo cita Manfred Berg che è un tedesco invece ha una posizione su questo molto più rigida cioè gli dice che tutto sommato l'influenza di lenin e dei bolshevichi sull'elaborazione del pensiero di wilson è marginale c'è una tale differenza di posizioni che non si può pensare che ci sia stata un'influenza così diretta invece Jacopo prende una posizione più chiara cioè quando lui dice che il discorso dei 14 punti nei tempi e nei modi e nei contenuti con cui viene fatto non sarebbe probabilmente stato uguale se non ci fosse stato settimane giorni prima l'appello ai popoli e ai governanti dei bolshevichi per mettere fine alla guerra parte che io sono abbastanza d'accordo con lui c'è un c'è un rispecchiarsi di contenuti e probabilmente è in quel momento che nasce questo confronto di internazionalismi che sono diversi tra di loro se non per quello che le ha comune ovvero essere delle idee delle ideologie dei progetti internazionalisti per natura cioè che nascono in quanto tale quindi il wilsonismo che nasce che ha il momento di esplosione con la pubblicazione di 14 punti fa da contraltare ma anche da compagno di viaggio del diciamo l'enimismo funziona l'espressione più adatta ma comunque del progetto bolshevico internazionale che viene esplicitato con quella lettera ai popoli ai governanti in questo senso non sorprende non dovrebbe sorprendere almeno dopo aver letto il libro non dovrebbe sorprendere la fortuna che ha avuto il pensiero di Wilson come internazionalismo cioè quando anche Patrizia diceva era facile anche passare da un campo all'altro e è successo io ricordo sempre l'episodio non ricordo se Jacopo ne parla nel libro ma comunque è lo stesso c'era un giovane vietnamita a Parigi nel 19 che scrive a Wilson per dirgli anche noi vietnamiti vogliamo essere indipendenti Wilson nemmeno gli risponde un anno dopo è alla conferenza di fondazione del Partito Comunista francese si chiamava Ho Chi Minh si sarebbe chiamato più tardi Ho Chi Minh non è l'unico io ricordo mi permetto anche con Patrizia non sono un espertissimo di Francia ma io ricordo di aver letto dei commenti positivi su Wilson anche di Marcel Cachin che sarebbe diventato il primo segretario del Partito Comunista francese il quale dice bisogna dirlo ci mette in crisi cioè il suo pensiero ha molti punti di contatto col nostro eccetera eccetera ora in tutto questo io vorrei arrivare a parlare di due punti adesso basandomi su questo il primo è la questione dell'Italia e il secondo è la ragione che poi Jacopo forse non lo dice direttamente ma si capisce se uno legge il libro e i capitoli fondamentali per cui il messaggio quilzoniano è diventato acquisito così tanto prestigio parto da questo secondo punto quando sono tutti d'accordo da Bissolati a Mussolini e tutto il resto evidentemente qualche problema cioè quel problema va ravvisato nella natura se vogliamo ibrida del messaggio dei 14 punti che va da dei principi estremamente vaghi a delle indicazioni dettagliate che evidentemente qualcuno all'epoca non capisce bene perché questo punto bisognerà anche dircelo quando si parla dell'Italia nei 14 punti di Wilson si parla dell'Italia si dice i confini dell'Italia andranno rivisti secondo chiare linee nazionali allora se uno sa leggere e fare 2 più 2 non vuol dire all'Italia aver dato tutto quello che vuole anzi il contrario alla fine l'Italia semmai viene dato di più di quanto i principi wilsoniani avrebbero concesso io abito qua a 50 km da qui mi sono interessato per vicinanza anche alla storia della questione altoatesina sull'altoatice finisce all'Italia e nessuno che Wilson sostanzialmente non alza un dito e lì ragazzi la popolazione per 98% parlava tedesco e non ci voleva stare in Italia quindi altro che autodeterminazione quindi il messaggio wilsoniano fondamentalmente su certi punti è un messaggio vago ci sono alcuni episodi che sono rivelatori alcuni sembrano come dire delle chicche storiche ma dimostrano molto questo famoso ambasciatore americano a Vienna l'impero austro-ungarico che cerca di chiamare Wilson perché dentro l'impero austro-ungarico tutti vogliono fare l'autodeterminazione come vuole Wilson e lui non capisce che vuol dire quindi si può far spiegare dal presidente chi è che si può autodeterminare i ruteni si autodeterminano i 50.000 persone che si definiscono nazioni si autodeterminano allora Jacopo in realtà nel libro spiega che Wilson aveva delle idee su questo cioè che ci sono c'erano secondo lui dei popoli che erano arrivati a un certo grado di sviluppo culturale che gli permetteva un autogoverno in forma di Stato perché per Wilson la forma di Stato è fondamentale e per un presidente degli Stati Uniti non è scontato questo la forma di Stato è fondamentale gli altri no ma questo nei punti l'ha detto anche Jacopo non c'è scritto nemmeno autodeterminazione tutti capiscono autodeterminazione fino a che punto chi si autodetermina quando come questo Wilson non lo spiega e nonostante abbia promesso che le trattative di Parigi verranno fatte all'aperto poi non vengono fatte all'aperto vengono fatte da quattro persone otto se ci mettiamo anche i ministri degli esteri chiusi dentro una stanza quindi come dire la delusione per il messaggio Wilsoniano è già insita nella natura del messaggio Wilsoniano molto spesso è messianico molto spesso è morale Jacopo una delle parole che usa di più nel libro è morale cioè c'è un fondo morale ma in quel senso il messaggio è meno politico di quanto poi sia politica l'azione di Wilson che invece è incline a compromessi anche perché sennò non se ne esce dalla conferenza di Parigi quindi come dire è la stessa vaghezza di quel messaggio che lo rende appetibile a tutti a chi non lo capisce e a chi non lo vuole capire salvo poi generare immediatamente delle delusioni nel giro di pochi mesi ma è normale e in questo senso arrivo all'altro punto di quello sollevare fa bene Jacopo a dedicare così tanto tempo all'Italia e non solo perché è un libro scritto da un italiano in italiano dovrebbero farlo di più all'estero molti libri che parlano di Wilson dedicano secondo me troppo spoco spazio all'Italia perché l'Italia è un caso paradigmatico fondamentale primo perché sono tutti d'accordo secondo perché fanno presto a non essere più tutti d'accordo e anzi alla fine sembra che non ci sia più un Wilsoniano in Italia di fatto quando si capisce che il pensiero di Wilson non ha nessun riguardo per le promesse che vengono fatte all'Italia non solo c'è un episodio importante Jacopo lo ricorda non ha nessun riguardo nemmeno per il governo italiano perché a un certo punto Wilson non solo frustra le ispirazioni del governo italiano ma si permette e questo lo rende simile a Lenin se starà rigirando magari nella tomba entrambi ma è così si permette di scrivere direttamente al popolo italiano bypassando il governo cioè con un gesto che per l'epoca è completamente fuori dai parametri gli unici due che lo fanno sono Wilson e Lenin quindi in questo senso il suo gesto per certi versi ci rivela anche quanto Wilson fosse abbiamo detto prima che era parte di un pensiero transatlantico rimane comunque uno statunitense per il quale certe cose europee non erano chiarissime non era chiarissimo che un presidente non si può rivolgere al popolo altrui perché viene considerata quasi una dichiarazione di guerra tant'è vero che le reazioni dei lettori stessi dei giornali italiani che si trovano al messaggio di Wilson non è una reazione positiva non solo per i contenuti noi questo lo sappiamo anche per la forma rivolgersi a un altro popolo quindi in questo senso come dire il caso dell'Italia è un caso fondamentale paradigmatico in tutti i sensi la quantità di persone che fanno proprio il messaggio lì nasce il Wilsonismo inteso come messaggio che va oltre Wilson e che rimane per certi versi superficiale sono tutti d'accordo e entro un breve lasso di tempo sono tutti contrari per ragioni diverse perché adesso infatti ricordava Jacopo in Italia c'è chi è deluso perché Wilson non ci vuole dare fiume ma c'è anche chi è deluso perché di fiume non gliene frega niente ma ritiene che i termini imposti alla pace di Versailles siano termini punitivi per la Germania e questo va contro il messaggio la definiremmo la parte proprio buona e per tutti positiva del messaggio Wilsoniano ovvero la pace senza annessioni e indennità che torno guarda caso si trova praticamente letterale nella stesso messaggio dei boscevichi di cui parlavo prima la pace senza annessioni e senza indennità ognuno se ne torna a casa e i confini non vengono cambiati per la guerra semmai per autodeterminazione quindi ripeto e fa bene secondo me a insistere ora che c'è anche una buona bibliografia su questo Jacopo sul caso italiano il caso italiano in questo senso è proprio rappresentativo al massimo dell'equivoco Wilson ecco di ciò che comincia già quando Wilson è in vita ma è già postumo sostanzialmente nessuno ha capito letteralmente cosa vuole Wilson per l'Italia e per il paese poi due punti che lui solleva che in parte diceva anche Patrizia prima non è un caso che lui rispuota grande interesse e grande consenso che va un po' oltre il crollo del consenso generale nei paesi di nuova indipendenza nati nei paesi neonati europei proprio perché in questo senso incamerano quel messaggio alla nascita come dire il messaggio Wilsoniano è un messaggio che cerca anche di fare tabula rasa del passato anzi nasce per fare tabula rasa del passato l'Europa si è fatta la guerra per secoli millenni con questo nuovo messaggio con queste nuove impostazioni valori invenzioni inauguriamo una storia nuova chiaramente un principio che non poteva andare bene alla Francia e agli altri paesi vincitori della guerra ma poteva andare bene per quei paesi che stavano nascendo e che hanno delle grandi aspettative sulla propria capacità non solo di affermarsi cioè con Slovacchia la Polonia non solo di affermarsi ma di affermarsi al pari degli altri stati non so se mi spiego prendiamo la Polonia rinasce ma la cecoslovacchia è un'invenzione d'accordo è un'invenzione di quel periodo un presidente americano che dice creiamo un'organizzazione in cui tutti gli stati siedono e sono tutti uguali uno all'altro per un paese neonato pensiamo all'Italia neonata nel 1861 e che strada ha dovuto fare per affermarsi come dicono i miei colleghi storici di media potenza neanche di grande potenza europea questi appena nascono gli viene data una sorta di dignità pari agli altri all'interno di un'assemblea alcuni di questi partecipano già alla conferenza di pace per volere di Wilson tra l'altro anche per volere di Wilson e poi faranno parte della sua denazioni quindi è chiaro che quel messaggio si adatta particolarmente e Jacopo lo sottolinea a questi paesi di nuova di nuova creazione di nuova nascita dopodiché aggiungo soltanto un beh devo aggiungere un episodio che mi ricordo perché secondo me è indicativo e mi ha sempre fatto molto ridere al di là della drammaticità quando Wilson arriva in Italia è vero che non c'è contatto con la folla ma è pure vero che se andiamo su YouTube troviamo le immagini pazzesche a Milano piazza Duomo gremita in ogni ordine sull'onda di quell'entusiasmo a Torino un signore padrone di un caffè cambia nome al proprio caffè lo chiama caffè Wilson tutti vogliono bene a questo Wilson chiamiamo il caffè così sette mesi cinque mesi dopo quella targa finisce in pezzi durante una manifestazione contro Wilson quindi come dire che la folla cambia rapidamente opinione su questo in Italia come forse più che altrove e poi c'è un ultimo episodio quando citava anche Patrizia l'importanza simbolica politica iconografica eccetera di questo viaggio di Wilson in Europa c'è un episodio secondo me che è però molto importante rivelatore anche se viene poco citato a Wilson viene proposto in Francia di fare una piccola deviazione e andare a visitare i campi di battaglia cioè i paesi devastati della Francia del Nord Wilson risponde no grazie perché non voglio essere influenzato da quello nel momento in cui farò le trattative di pace e creeremo la pace senza vinti né vincitori ora non è difficile vedere in un episodio del genere già tutte le radici di tutti i problemi di discussioni e le differenze che ci saranno alla conferenza ma come lì si fa la pace per mettere anche giustizia rispetto a cinque anni di guerra in cui tra l'altro anche per Wilson è chiaro chi sono gli aggressori e chi sono gli aggrediti perché uno come Wilson è attento al diritto internazionale sa benissimo una cosa che spesso ci si dimentica quando si dice il trattato di Versailles è durissimo eccetera la Germania per fare guerra invade almeno due paesi neutrali quindi calpesta completamente neutrali la cui neutralità è garantita tra l'altro dalla Prussia che precede la Germania quindi calpestando il suo stesso assicurazione di neutralità in questo senso è un episodio rivelatore perché questa aspirazione di Wilson a fare tabula rasa e ripartire da zero è chiaramente qualcosa di inaccettabile per gli europei e questo per molti europei e questo è uno dei è uno dei dei problemi che minano alla base il progetto Wilsoniano e l'approccio Wilsoniano alla guerra alla pace salvo poi come Jacopo spiega nel libro poi Wilson molto spesso è anche in grado e capace di arrivare a dei compromessi che verranno ascolti malissimo dai suoi estimatori diciamo del campo democratico socialista eccetera ma che alla fine verranno realizzati con quello che è poi alla fine cioè anche Jacopo lo dice alla fine ciò che interessa a Wilson realmente è che si metta in piedi alla fine questa Lega delle Nazioni perché per lui è quello il nodo della questione in questo senso aveva un ottimismo anche in parte ingiustificato cioè una volta che creeremo questo organismo per il futuro non avremo più problemi quindi sul passato si può anche cercare di di arrivare a qualche compromesso purché per il futuro questa cosa venga creata lui stesso quando gli viene chiesto di precisare maggiormente le procedure con cui deve funzionare sulle adrenazioni Wilson è molto vago su questo lui ha convinto che creato il contesto come dire da soli i paesi riusciranno a creare i meccanismi per regolare all'interno le controversie tant'è vero che lui è d'accordo su questo principio dell'unanimità che invece Jacopo ci ricorda quando poi si crea l'ONU lo si fa diciamo guardando a Wilson ma anche guardando contro Wilson cioè una delle prime cose che si rinuncia è l'unanimità se no non si combina più niente come è stato per la società basta ho già detto fin troppe cose grazie grazie Patrizia Dogliani che insegna a Bologna richiamando appunto la centralità di quest'ansia per il nuovo mondo da parte di Wilson che si scontra con la realtà esistente soprattutto in Europa prego sì riprendo molto brevemente alcune cose uno credo che sia importante l'abbiamo sottolineato tutti la prospettiva temporale perché noi studiamo alcuni aspetti alcuni elementi del Wilsonismo del dopoquera senza spesso rendersi conto che certi cambiamenti avvengono in pochissime settimane è stato più volte la prospettiva temporale qui è essenziale per capire ma poi capire anche la velocità di certi fenomeni che avvengono proprio tra il 19 e il 22 ecco anche questo è un altro uno spunto che nella lettura che ho fatto rifatto devo dire per questa occasione ho uscito il libro io sono convinto e poi ripensando alcune cose che avevo anche io studiato io non so se Jacopo è d'accordo io sono convinta che insomma questi questi americani Wilson ma non soltanto quelli che si porta con sé Wilson non dico i diplomatici ma tornerò su uno in particolare dell'Europa sanno capiscono veramente nel momento c'è una una delle delle proposte su cui che partono da una serie di posizioni di è stato ricordato molto gli aspetti ideali morali ma concretamente questa Europa è veramente lontana da una prospettiva americana mi pare e ad esempio io l'avevo anch'io ricordato tra i personaggi che precedono addirittura l'arrivo di Wilson è Samuel Gompers che è il grande segretario della FLM cioè il sindacato dei skilled workers dei lavoratori qualificati Gompers è accolto quasi come Wilson tra il mondo della sinistra il mondo socialista dei paesi alleati e fa delle proposte che certo tra l'altro fa delle proposte che non riescono in qualche modo si capisce molto bene che lui vede un mondo del lavoro una democrazia gli elementi della conflittualità si è parlato anche molto della violenza democrazia e violenza che sono spiccatamente americani e che non riescono a conciliarsi con una percezione molto diversa della conflittualità del mondo del lavoro degli aspetti della ricostruzione dell'Europa alla fine negli ultimi mesi di guerra e alla fine della guerra quando un personaggio parentato se vogliamo con Marx come Jean Longuet propone nel 18 una democrazia socialista ha in mente un'idea completamente diversa a un'idea di democrazia americana come il socialismo europeo ha un'idea completamente diversa da quel tipo di labor americana l'altro aspetto abbiamo parlato del patriottismo come abbiamo parlato di come fare la pace ecco come fare che cos'è oltretutto ci sono degli studi ormai tanto consolidati sulla questione del pacifismo pacifismo americano e aspetti del pacifismo europeo anche lì sono due percezioni e due pratiche molto diverse l'impressione Gompers per esempio ha una paura ha paura di un certo tipo di pacifismo europeo che invece che invece abbraccia se vogliamo il wilsonismo nei mesi finali e successivi alla guerra perché lo vede in maniera molto diversa vede un pacifismo vede il pacifismo radicale vede il pacifismo come disfattismo vede il pacifismo come bolshevismo e qui teniamo conto che la paura il red scare la paura dell'ossessione per il bolshevismo diventa un elemento sempre più crescente all'interno di quelle che noi consideriamo le sinistre riformiste americane che arrivano in Europa e che cercano di interloquire che partecipano a come Gompers a tutta una serie di riunioni e anche questo è interessante certo c'è tutto un aspetto legato alla nascita diciamo il cappello della delle delle dei punti di Wilson delle nuove stati in azione ma c'è anche ci sono tutta una serie di sezioni di lavoro che a Versailles vengono vengono create e secondo me sono tra le tra le più interessanti come quello appunto che dà la nascita all'internazionale all'ufficio internazionale del lavoro dove c'è una nuova concezione del mondo industriale del rapporto ecco dove c'è del nuovo ma c'è anche di fatto due prospettive tra l'europea e l'americano molto diverse una lettura molto diversa che è anche quella la questione delle nazioni delle nazioni su cui tra l'altro è stato ricordato tanto i partiti socialisti europei col colonialismo hanno grande difficoltà lo lasciano lo lasciano sempre più all'internazionale comunista la terza internazionale per molti aspetti questo aspetto ma anche manca a questo punto da parte del socialismo europeo una riflessione più attenta su che cos'è la nazione la nazione e l'idea di nazione wilsoniana è molto diversa da quella che si prospetta in Europa e non a caso faranno le sinistre europee faranno i conti con questo tipo di concetti di nazione solo alla fine del periodo tra le due guerre sto pensando a Otto Bauer che riscopre alla fine che cosa poter fare di fronte all'aggressività del nazismo che cosa fare di quel concetto di nazione in un'area mitteleuropea che viene sempre più scardinata dal nazismo ecco sono andata molto avanti ma d'altronde il sonnismo ci porta sempre avanti in queste riflessioni ecco ripeto patriottismo pacifismo scusate concetto di nazione concetto di democrazia e democrazia socialista bene è come parlare tra i sordi secondo me adesso non è un modo molto storico di affrontare però di fatto l'impressione è quella nella in quei mesi che prima ancora che portino a in qualche maniera alla sconfitta o alla a rinnegare il wilsonismo fin delle insegne dei bar come ricordava Giovanni ecco era l'ultima osservazione finale grazie questo richiamo le differenze da vecchio nuovo mondo e darei la parola conclusiva a Jacopo appunto alla rifila insomma di questo ricco dibattito prego grazie grazie ancora Paolo io in realtà sentendo quest'ultimo intervento di Patrizia nel senso incentrato poi dopo sulle difficoltà di comprensione più che comunicative cioè proprio direi di comprensione tra Europa e America sì effettivamente è vero nel senso ma secondo me oltre che proprio al di là dei messaggi che dicevi giustamente tu Patrizia delle visioni che poi dopo le varie delegazioni hanno i vari protagonisti hanno secondo me c'è anche una difficoltà nel comprendere in Europa certi atteggiamenti americani un po' come diceva prima Giovanni e al tempo stesso in America di comprendere certi atteggiamenti europei cioè proprio una quasi una questione antropologica ne farei cioè infatti anche Giovanni prima citava citavi giustamente quell'episodio dove di fatto è anche di fatto emerge dove emerge questa differenza infatti Giovanni citava proprio quando Wilson in qualche modo cercano di portarlo sui campi di battaglia no scusate tu sei qui a fare vuoi fare la pace giusta ma non vuoi vedere chi è morto per quella pace giusta in effetti mi pare che poi ci vada ma un po' tirato per la giacchetta se non ricordo male adesso però non va nel primo momento va proprio durante i lavori quasi in silenzio per non far uscire troppo notizia cioè quindi con un'altra enfasi che viene data anche dal suo staff a quella visita a differenza del giro in Europa questo già ci dice moltissimo di come volesse di quale fosse il suo atteggiamento di fronte alla questione ma secondo me la questione che c'è le visioni agli antipodi tra Europa e America si vedono anche in altre due occasioni molto generiche intanto quando Wilson enuncia i suoi quattordici punti cioè se andiamo a vedere le reazioni dei governi europei soprattutto quello francese e qui è già è meno sorprendente ma anche quelli inglesi ci restano di sasso per non parlare di sonnino però anche quello che doveva essere il governo se volete più vicino agli americani quello appunto inglese ma restano tutti di sasso perché dicono ma come questo viene ci dice quale sarà il programma della pace ma te l'ha chiesto quale sarà il programma ti ha chiesto ti l'ha condiviso con te e si parlano proprio George Clemenceau su questo punto e si vede proprio come fossero su due piani differenti anche in termini di azioni diplomatiche di relazioni poi tra gli stati che comunque combattevano la guerra dallo stesso punto di vista e questo ci dice tantissimo un altro punto secondo me emerge quando si deve decidere la sede e la confusione e la confusione e la confusione nel senso che per i francesi è logico che sia a Parigi cioè non c'è alcun dubbio ma per gli americani no questo il fatto che Parigi era come dice anche Giovanni nel suo libro una città di guerra nell'inverno del 18 con le buche dei crateri delle bombe scusate nel giardino a Tilleri se non ricordo male insomma in alcuni punti simbolici della città colpiti dalla guerra però per gli americani non si può fare la pace in una città di guerra e qui c'è già un'accettazione americana perché poi ovviamente non si può rifiutare questa richiesta francese troppo grosso sarebbe lo smacco per i francesi anche per lo stesso Clemenceau che proprio mette questo punto come condizio sine qua non per la via delle trattative e quindi secondo me qui già ci fa capire come se per i francesi c'era l'idea di una pace appunto se vogliamo punitiva chiamavano una pace figlia della guerra Wilson in qualche modo ha un'idea differente e ci fa capire come i due queste due anime dell'intesa fossero effettivamente su posizioni differenti e poi viene fuori il dissenso ma più che venire fuori ed esplodere il dissenso tra le due fazioni anche se ho studiato mi sono letto poi tutti i verbali fortunatamente tutti online della commissione presiduta da Wilson per arrivare alla scrittura del covenant della società nazioni in realtà secondo me poi alla fine ci si accorda sui punti si superano le incomprensioni però è del tutto evidente che i due governi avessero i due capi di governo i capi di stato avessero obiettivi differenti e quindi ci fa capire come poi dopo non c'è c'è difficilissimo che ci si accorda ma insomma l'accordo è ovviamente un compromesso come tutta la politica è un compromesso quindi questo è abbastanza logico e anche l'idea del mito Wilsoniano secondo me viene meno se uno guarda il compromesso non può che essere così insomma la conferenza di pace fu veramente un momento complicatissimo che senza questo tipo di arte della politica non ne sarebbe uscito nessuno ecco secondo me io appunto come cercavo di dire anche nell'introduzione non scrivo non parlo di Italia perché sono italiano e perché avevo le fonti qui non era questo il mio obiettivo ovviamente è un libro che ho concepito ho scritto durante la pandemia quindi mi sarebbe non lo nascondo piaciuto approfondire alcuni aspetti che ho potuto soltanto toccare come per esempio il caso tedesco secondo me è anch'esso molto interessante perché è un paese sconfitto e abbiamo già abbiamo già tanti lavori Giovanni citava Manfred Berg ma forse quello che prima si è occupato di Wilsonismo in Europa è stato o meglio negli anni a noi più vicini paro agli anni settanta è stato Klaus Schwabe che ha scritto questo libro importantissimo sulla Wilson nella transizione tedesca quindi tra guerra e tra imperio e repubblica però mi sarebbe piaciuto quindi approfondire questi aspetti però mi sono accorto leggendo le varie fonti che il caso italiano era estremamente interessante perché effettivamente abbiamo un momento in cui sono tutti wilsoniani perlomeno non tutti però diciamo lo sono i futuri partiti di massa lo sono no perché i cattolici il partito popolare quando lo scrivo nel libro scrive la sua carta il manifesto primo manifesto programmatico c'è un chiaro riferimento a Wilson perché diceva le stesse cose del papa e qui ritorna l'equivoco i socialisti lo sono lo sono anche i nazionalisti lo sono anche poi anche Mussolini è protagonista poi si dimentica ma della conferenza dei popoli che si tiene nell'aprile del 18 a Roma è cavolo lì è Mussolini troviamo un Mussolini che spalleggia Luigi Albertini quindi dietro Wilson e il wilsonismo si giocano anche questi tipi di situazioni si sviluppano queste situazioni che poi vedranno posizioni vedranno profili sui lati opposti della barricata quindi è molto interessante anche perché di fatto consenta alla politica italiana di svilupparsi in maniera curiosa e forse senza troppi similitudini nel resto d'Europa tu Giovanni citavi Marcel Cachin certo è uno dei è proprio il caso io mi sono un pochino occupato non tanto in questo testo ma in un libro che faremo poi dove scriveremo sia io che Patrizia proprio sul sul socialismo francese Wilson e Marcel Cachin è clamoroso vedere come passi da essere uno tra virgolette dei wilsoniani all'interno della Sfiop per certi versi ancora più di Alberto Ma per le posizioni che prende e poi dopo buttare tutto all'aria e far parte entrare nel col congresso di tour nel partito comunista francese proprio a conferma di quello che si diceva anche prima cioè che forse questa rottura così rigida tra Wilson e Lenin a mio avviso non convince troppo sia perché appunto c'è uno io credo una una reazione indiretta di Wilson a quello che succede in Russia perché è chiaro che forse è esagerato si scrive che talvolta c'è chi ha scritto che la guerra fredda si è iniziata nel 17 per o meno a livello ideale poi secondo me è un'esagerazione perché poi non c'è guerra fredda senza Stalin e senza Truman quindi stiamo di che stiamo parlando senza guerra neanche senza seconda guerra mondiale quindi cioè è difficile secondo me andare a ritroso però è vero che un confronto tra questi due internazionalismi che poi hanno fatto nel bene e nel male la storia del novecento incomincia con il 17 forse non è un confronto aspro credo come così come sarebbe stato dopo anche perché è vero che gli Stati Uniti partecipano poi alla alle varie missioni militari che si tengono in Russia in funzione antibolshevica però gli Stati Uniti forse sono anche quelli che la conferenza di pace hanno una posizione se vogliamo più morbida non nei confronti dell'Unione Sovietica della scusatemi della Russia anche se poi ci sarà un problema dentro la delegazione americana che forse è lo staff di Wilson che ci fa capire come fosse ogni tanto qualche problema ci sia stato anche lì perché William Ballett che esagera nel suo mandato per arrivare quasi a un accordo di riconoscimento del governo bolshevico insomma qui ci fa capire che qualcosa non ha funzionato neanche dentro il gruppo dirigente americano quindi questo è anche abbastanza normale credo un altro elemento di normalità della politica che poi talvolta ci dimentica e quindi questo secondo me è un punto importante è vero i due internazionalismi un po' si stimolano perché io credo che anche io non sono tanto la tesi di Berg ma sono molti che forse quello che l'ha provato a dire è Akira negli Stati Uniti che in qualche modo c'è il primo peraltro a dirlo qualche anno fa negli anni primi anni 2000 che insomma c'è per lo meno temporale una reazione quanto meno una correlazione quanto meno curiosa perché è vero che Wilson incomincia a lavorare i 14 punti con Edward House che era il suo con il suo principale consigliere se vogliamo in politica estra che non era un colonnello peraltro però questo è un altro discorso però incomincia a lavorarci diciamo tra la fine nell'estate del 17 però è anche vero che l'inquiry lo staff che è il gruppo di lavoro che Wilson mette in piedi tra i 14 punti beh è vero che accelera i suoi lavori dopo che incominciano a uscire i primi lineamenti intanto la rivoluzione d'ottobre con il suo messaggio messianico e poi quello che dicevi tu Giovanni cioè c'è tutto un velocizzarsi no? perché si capisce che quel messaggio lì quello di Lenin cavolo niente consensi e quindi se noi noi americani abbiamo l'idea di porci come nuova potenza e questo c'è nella testa di Wilson nel senso al di là del modo di porsi appunto tra virgoletti da lista però come anche la sua riflessione intellettuale dimostra c'è l'idiatista quindi sono un paese eccezionale che in qualche modo devono giocare a un valo globale e se noi non reagiamo in qualche modo all'ascesa del fenomeno bolshevico siamo in secondo piano e quindi dobbiamo reagire 14 punti poi secondo me al di là di questi diciamo così discorsi sulle date che lasciano forse sempre un po' il tempo che trovano però ce lo dice anche il fatto che tutte le agenzie di propaganda americane in Europa dopo che vengono pubblicati i 14 punti li fanno circolare forse è uno dei manifesti politici più stampati nella prima età del novecento che arrivano ovunque in tutto il mondo hanno una diffusione veramente globale ma perché c'è questa idea perché gli Stati Uniti vogliono uscire dalla guerra come una potenza globale come non lo sono mai stati fino alla guerra mondiale perché erano sicuramente una potenza industriale in ascesa ma non erano ancora una potenza globale tant'è vero che secondo me questo cerco di dirlo in alcuni forse nella conclusione poi uno dei grandi lasci di Wilson è che alla fine dopo Wilson gli Stati Uniti sono una potenza globale in qualche modo nel bene o nel male però diventano un attore mondiale proprio anche per grazie involontariamente inconsciamente a quello che ha fatto Wilson nel bene o nel male quindi la grande guerra ci lascia anche questo e ce lo lascia perché appunto c'è stato un signore che era un accademico con tutto quello che vuol dire anche in senso negativo degli accademici prestati alla politica che però appunto si fa portatore di una trasformazione radicale della politica estramericana questo mi sembra abbastanza chiaro al punto che la politica estramericana entra anche nei dibattiti dei piccoli tra virgolette partiti di massa europei cioè degli attori politici europei cosa che non c'era mai stata fino a quella stagione lì ecco poi forse sarebbe stato ancora così dopo ma insomma dopo inizio qui e poi chiudo su questa cosa certo anche per Roosevelt che citava Giovanni anche per Roosevelt Wilson era anche lui un wilsoniano di formazione però è del tutto evidente che se uno va a vedere proprio le carte che testimoniano la nascita delle Nazioni Unite si vede che il modello a cui non rifarsi soprattutto sul tema della maggioranza assoluta era la società delle nazioni quindi c'è c'è un tentativo di apprendere da un'esperienza che certo è stata se non del tutto fallimentare quantomeno molto problematica ecco cioè la società delle nazioni grazie ancora io Paolo mi fermo qui perché appunto potrei dire troppo ma non è il caso grazie e appunto mostro la copertina del libro per i nostri i nostri lettori i nostri scopitori scusate il libro appunto che si chiama per la pace e di inizio Woodrow Wilson e la sua eredità la grande guerra lo shock della globalizzazione insomma sulla nascita sostanzialmente della politica di una potenza globale e sugli sviluppi sulle evoluzioni naturalmente il rapporto anche ai mutamenti strutturali che avvengono nel corso del novecento ma che ci fanno capire appunto questo è il merito del libro quali sono le basi anche del modo in cui gli Stati Uniti interpretano nel secondo dopo guerra il loro ruolo di potenza globale grazie a tutte e a tutti per essere intervenuti ci vedremo il prossimo giovedì venticinque grazie ancora e buona serata a tutti buona serata a tutti grazie a voi buona serata grazie a voi grazie a tutti 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 grazie a tutti